Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di avete visto il nostro strumento per registrare, non è importante di, finisci la frase, Ace Ace, si giusto, giusto, ero rimasto a SCP Containment Breach che dovevamo portare anche quello ma abbiamo deciso di fare Ace che è più veloce, casomai la facciamo dopo Allora ragazzi voi il gioco lo conoscete, sui Chris avvicinati che abbiamo una sola cuffia, le mie che sono scrause Ricordo dei vecchi tempi dove eravamo molto guy Esatto, si che bello, ancora facciamo gameplay Noi ragazzi, il canale lo continuiamo a portare avanti, il problema è che uno non so in che difficoltà sono E due perché non lo ricordavo così dentro l'omino Ah no è veloce, è veloce, ok Non c'era un modo per correre Va bene lo scopriremo andando avanti No, no non c'era un modo Vabbè praticamente noi ragazzi abbiamo rallentato con i gameplay non perché siamo Perché non perché stiamo chiudendo il canale ma perché abbiamo visto che portano veramente poco Quindi il Chris che ci ha creduto fino alla fine con i gameplay c'è veramente alla fine ci è rimasto un po' male perché lui ha sempre portato il gameplay Ok, poi si è reso conto che non facevano un cazzo Quindi io ho preso tutto Ah ok Tu dimmi quando senti il rumore perché lui ha le cuffie, io non sento Ok ti dico io quando sento il rumore Ok Allora perché conta molti sonori in questo gioco qui Allora il gioco lo conoscerete, trova i sacchetti Trova tutti questi sacchetti pieni d'oro Che non sono della mondia, sono pieni d'oro Dobbiamo prenderli e poi fuggire Ora arriverà il fantasma che poi avrete la fortuna di vedere molto bene quando succederà Senti rumore? No Ok vai avanti Cazzo quanto siamo presi male a dire senti il rumore che le cuffie ce l'ha lui Ed è tutto storto su di me, bravi che riesci a sacrificare la tua schiena Poveri di merda Senti rumore? Non so se è più una schiena giusta adesso Senti rumore? No Ok Madonna mia se mi fa mal Che difficoltà è? Difficoltà normale Difficoltà, fantasmi non esistono Apri Senti ora dovrebbe arrivare Ma è un simbolo, ah no è sporco Con cui si usano gli occhi? Uso gli occhi? No 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 Cazzo quanto siamo presi male Vai tranquillo Sono passato sotto le scale Aspettate un attimo che Sta tornando su? No è sotto il piano di sotto Vado su quindi Quello là a lezzo Però non mi faccia mangi No non ti fa mal Tranquillo No no ti prego no 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 Sei nell'angolo rottura della Lidl No 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 ti prego No ma cos'è quest'angolo rottura della Lidl? Che io sento parlare e non ho mai visto il video originale E' qua che gira? E' qua che gira? Come non avevi due occhi quanto prima ne avevi due Ah vero ne ho preso uno in più Qui è qua che gira oppure sopra? Senti rumore? No Ok quindi esco Dimmi se senti rumore Ok ti dico che sento rumore Cazzo fate il rumore Aspetta che ti alza un po' il volume Così senti meglio E me lo metti a zero Che cazzo? Ecco perché non sentivo il rumore Mettiti su le cuffie così senti meglio Eeeh poi prendo paura io Mettiti su Mettiti su quelle cazzo di cuffie Ok l'ho messa su Non ce ne hai? Non lo sanno finché non lo vedono Ricoglionito Ah qua le scale dove c'è Cosa c'è qua sopra? Ah giusto Sacchetta a volte qua spuono un occhio Noi non sobbiamo dare una caduta quindi buttiamoci giù Non c'è Di solito qua non entra mai Ah fanculo Fanculo Di solito qua non entra mai Fanculo Ultima citazione Fanculo Senti Porca te no Non c'è un modo in quale io mi metto a sinistra Così mi prendo le cuffie che sento bene tutti metti a destra Facciamo sto procedimento qui strano Dio santo così prendo paura Ora c'è su le cuffie Vai passami davanti su Come ti ho già passato di sotto? Non lo so senti Ho capito ho capito Questo qui non lo edito ragazzi perché veramente Ah cosa? E' un movimento che ci metto più tempo a editare che a fare i video a caricarlo su youtube Ora sono io che sto storto avvicinati christen Ancora pochissino Ho sacchetti come gli blingheri Ma il rumore lo fa? Penso io Si 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 Penso Spero Dammi un attimo Che non sei tu No no non va connesso Scusate ragazzi Ho preso un po' comune Ho preso un po' l'ignoranza Mi stavo grattare un attimo Cavolo quanto è... Sei stato bravo stare così fino a prima perché veramente Mi fa male di schiena Sai cosa faccio ancora? Stare così? Mi sta tirando... Mi sta facendo il sorlettico Sei un ricoglione Te lo sai? Queste cose qui si fanno solo con le webcam Così impari ad entrare nell'angolo rottura della lidl Non cos'è sto angolo rottura della lidl Devo spiegatelo? Si spiegamelo Ok Degli zingheri sono entrati Oh non c'è rumore ragazzi Posso spiegarlo? Si Degli zingheri sono entrati a rubare nell'angolo dove sono gli oggetti Non so se erano gli oggetti scaduti o gli oggetti rotti Dove quelli della lidl loro li ho chiusi dentro e ci ha fatto il video No Ti ho spiegato e sono stati licenziati Si In pratica è così Si ma non fai il video con gli altri rubani infatti hanno sbagliato loro Pur quanto gli altri siano stati Eh ma se vado sotto mi stanno Ecco sta scendendo infatti Ah sta scendendo? Ma vaffanculo non c'è rumore Mi senti Gioco baggato di merda Gioco baggato Ma che cazzo Ma allora io cosa registro fare se non c'è rumore? Ma si che c'è rumore Io prima sentivo la musica Sound Su Io prima la musica la sentivo Ma ci siamo Ma scusa ma se non senti rumore vuol dire che non c'è no? Ma non fa rumori mentali questo gioco Con la musica No Non so neanche se senti il rumore delle porte Senti il rumore di quando è vicino mi sa Eh se è sotto Ma questo qua va o sotto o sopra Non va mai in mezzo Ma che cazzo Preparati al Non fai rumore Non fai rumore Avevo dovuto sentire il rumore Vaffanculo Non fai rumore Cosa facciamo? Però ho nominato un ment E ti ha fatto Ma si vado su menu Eh vai avanti Ah Opzioni Senti che non fai rumore Opzioni Un attimo Ok qua non va Qua non va Sto facendo ingegneria tranquilli Non va un cazzo Non va un cazzo Molto bene Aspetta Aspetta un attimo Prova che è nessuno Ma no no Da chat Da chat No no Da chat È invertito L'hanno fatti i cinesi Ti ha su la chat La chat No non va niente L'ha fanculo Aspetta Niente così Niente così Ma va Niente così Niente così Che belle cuffie che hai mister L Che vestire tue Eh è stato una casa E vado a prendere sì di sicuro Che cosa facciamo? Continuiamo così No Andando allo curo Interrompiamo Grazie a tutti